Ecco, lo sapevo, gli do appuntamento alle nove e mezza al bar e non c'è, come tutte le volte io devo aspettare un uomo, ma per chi, ma per cosa, basta, questa volta veramente... Eccomi, eccomi, puntualissimo, ma questa volta no, no, amore, ho una spiegazione, dimmi, intanto sediamoci perché voglio bere qualcosa, Stiamo uscendo di casa, non vesti... Salve! 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 Avete qualcosa? Sì, un caffè, grazie. Per lei? Niente. Genovese? No, Sanremo. Un caffè. Un caffè per lei? Niente! Un caffè. Un caffè abbiamo detto! Un caffè! Lo zucchero, il cucchione ce l'avete voi o lo portate? Un caffè. Un caffè, bene, tolto una cannuccia e la tagli lui, così, eh? Va bene, va bene. Genovese? Eh, dicevi tu? Ma guarda, sono uscito di casa e ho investito un panda al vino sotto casa. Ah, un pa... Sì, guarda, ma questo è scurri, no, regolo! Lo spi ce l'ho già fatto perdurare. Senti, ha fatto. Guarda, lo so che siamo appena tornati, ma... Facciamo anche un'agenzia che sono andato a prenotare un viaggio. No. Un viaggio, sì, sì. Sì, no. Sai dove ce ne andiamo? Dai, dimmi dove. Il presente è la savana, il safari. Andiamo in Kenya. No, eh. No, in Kenya no. I leoni, la savana, tutti quegli alberi, quei cespuli, i rugiti. No, 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 no. No, no. In Kenya no. E poi è troppo caldo. No, no. Non va bene. È troppo caldo. È troppo caldo. È troppo caldo, non si aggrava di vedere. Però, amore, io ho pensato una cosa. Senti, ma è che io ci prendo sempre. Perché non andiamo in un posto dove ci sono le renne? Già, sono pronta. Sai quante corna. E poi magari un sacco di regali. Magari incontriamo pure Babbo Natale. Ti porto in Lappogna. Wow. Dai, bella. No, in Lappogna proprio no. Con le renne. Poi guarda, in Lappogna fa freddo. È freddo. È troppo freddo. È troppo freddo. È troppo freddo. È troppo freddo. È bevo io. È pfff. È pfff. È pfff. È pfff. È pfff. È pfff. E qui andiamo. Di Porto. E se sente? La tua è incontaminata? In Australia. Bella l'Australia. L'Australia. I canguri. Tutti quei mastupiati. No, troppo roma che salta. Già qua ci sono tutte queste cavallette. No. E poi è troppo lungo. Ti ho detto che è troppo lungo. No, è una strada. È troppo lunga. Troppo lunga. Ascolta me, io sono sicura che questa volta ti piacerà, eppure a basso costo, anzi, passo zero, perché andiamo da mio fratello, andiamo da mio fratello, sai quel pecorino bello stagionato, 48 mesi, andiamo in Sardegna! Il formaggio non lo mangio, in Sardegna no, 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 troppo corto, no, 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 troppo corto, troppo corto, troppo corto, troppo corto, troppo corto, troppo corto, troppo corto! E' mio fratello! Sa, facciamo così, sono stupato, non va bene qua, non va bene là, vado in agenzia, rubo i primi due biglietti, e ce ne andiamo! Eh no, eh, rubare i due biglietti, questo non è corretto, secondo te prendi i due biglietti, non è corretto, ci hai detto che non è corretto! Non è corretto? Lo volevo con la mosca e glielo ha preso! Corretto con la mosca? Non è corretto, abbastanza! Gli devo io! E poi scusa, noi non avevamo chiesto il caffè! Dov'è il caffè? Dove sei andato a prendere i chicchi, oh? Barista! Barista! Arrivo, arrivo! Due ore per il caffè, oh! Il caffè non c'è perché ti sotteva! Il caffè non c'è perché ti sotteva!